Vincitrice dell'ultima edizione di Masterchef Italia, è un piacere averla qua con noi, chi abbiamo Kate? Signore e signori ad hashtag, ad hashtag, ce la posso fare, Erika Liberani! Che bellissima ragazza, che bellissima ragazza. Ti facciamo pure accomodare. Benvenuta. Grazie. Sulla sigla. Grazie mille. Ce la puoi fare? Ce la posso fare. Davvero? Quante volte ti sei detta durante Masterchef, ce la posso fare? Più che altro ce la devo fare. Era una cosa imperativa. Sì, perché tutti ce la possiamo fare. Secondo me il potenziale ce l'abbiamo tutti per farcela, è il volerlo fare che fa la differenza e quindi mi ero un po' imposta di mettercela tutta perché ce la potevo fare. Tra l'altro lei tu per Antonio Masi sei quella che ce l'hai fatta, che sei uscita vincitrice dopo quelle... Sono veramente così dure quelle prove? Sì, sì sono dure perché comunque devi suscitare emozioni, devi fare la differenza e il meglio di noi salta fuori nelle difficoltà vere. Un po' come nella vita, no? Masterchef è un po' una metafora secondo me. È un gioco, però comunque rappresenta tutti gli ostacoli che si possono avere nella vita. quando hai a che fare con qualcosa che non conosci, con dei rivali, con delle... comunque delle regole. E quindi è stata un po' una piccola metafora della vita e tante emozioni davvero. E' stato il nostro ospite uno dei giudici del talent che tu hai vinto, Bruno Barbieri. Allora siamo curiosi di sapere innanzitutto con lui come ti sei trovata e se davvero ma questi giudici sono così cattivi, così severi o fanno un po' di show? Ma soprattutto la besciamella la sai fare? Hai dei dubbi? Ti sfido a una gara di besciamella. Ah, guarda che... Non ci facile. Io ho ricevuto la sgridata, chiamiamola così, da Barbieri con diretta per la besciamella, capito? No, ma adesso al di là di besciamella non besciamella, com'era il rapporto con... Allora, è una domanda che mi fanno in tantissimi, però è esattamente come lo vedete voi. Nel senso che non si può parlare con la produzione, i giudici, deve essere... E' tutto molto rigido perché comunque è un po' come a scuola, cioè non si devono creare preferenze e quindi rimane tutto molto separato. Noi entriamo da quel famoso portone che vedete voi. I giudici sono lì, mentre si fa la prova si interagisce con consigli, insulti, complimenti, comunque poco, molto a monosillabe. E finita la prova, loro se ne vanno da un'uscita che è diversa dalla nostra. Quindi al di là dei giudizi in sé durante la prova, io non vi so dire com'è. Ma è giusto, cioè nel senso a me la trasmissione ha preso molto più valore dopo che l'ho fatta, perché ci sono molte regole e molta serietà. Col senno del poi ti direi che gli insulti, i commenti sono un po' arricchiti. Cioè io non penso che loro si svegliano la mattina e abbiano come intenzione quella di insultare me. Spero, lo spero per loro. E quando sei lì non ci pensi nemmeno che non siano vere le cose che ti dicano. E' ovvio che c'è un fondamento, se il piatto gli piace o non gli piace, viene molto enfatizzato il commento. Col senno del poi, avendoli incontrati successivamente dopo le registrazioni, ho incontrato delle persone molto alla mano, alla buona. La stima che avevo di loro è comunque anche aumentata. Tanto, parlando di piatti gli piace o non piace, ha una bambina. E no, è una cosa che ci chiedevamo guardando... Emma, 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 Emma. Guardando i tuoi video con Emma, ci siamo chiesti, ma come adesso una che sa cucinare bene, come dà da mangiare le verdure? Come fai? Allora, io sono stata fortunatissima, perché poi ho sempre proposto a Emma un po' di tutto e lei lo ha sempre mangiato. Però, anche mentre l'aspettavo, mi ero fatta tante domande e avevo deciso che non le avrei imposto niente. Perché comunque, vedi, a una certa età poi le mangiano tutti, ma soprattutto non l'avrei ingannata nascondendo, direi. Ok. Ma una ricettina al volo, così, per le mamme che hanno bambini piccoli che ci seguono da casa. Come facciamo a far mangiare le verdure ai bimbi che non vogliono mangiarle? Ecco, io non so se sia stata fortuna oppure sia stato il mio metodo. Quando andavo a fare la spesa, facevo scegliere Emma. Cioè, io arrivavo al reparto frutta o andavamo dal fruttivendolo o nell'orto dei miei genitori e le dicevo, Emma, scegli due verdure tu. Faccio, se sei brava ne puoi prendere anche tre. Così lei si sentiva che era quasi un premio. Però è molto bella questa cosa che la porti nell'orto, così vede anche da dove... Sì, io ho sempre fatto così. Prima cosa che fa Emma quando va dai miei genitori è, mi perdoni il ragazzo vegano, ma andare a raccogliere le uova nel pollaio. Ma no, ma anche lui ne mangia le uova, ma sono sempre comunque le uova di... Uova di soia. Uova di soia. Uova di soia. No, sto scherzando. Però sì, non volevo comunque ingannarla perché per me da piccolini è più importante la loro fiducia nei nostri confronti. E quindi quando scoprono che lei ha nascosto le zucchine, come faccio poi a insegnarle ad essere sincera? E tutto se sono la prima a nasconderli e a ingannarla, no? E quindi per me era più importante questo, del fatto che mangiasse broccoli a due anni. Tutto qua. Vabbè, dai, almeno adesso... Poi mangia, tu di così. Ma infatti... È tanto meglio. Erika, tu però in realtà sei fisioterapista. Esatto. Ora che hai vinto questo famoso talent, la cucina, che cosa rimane per te? La tua passione oppure vorresti che diventasse la tua... Massaggi i broccoli, per esempio, prima di cucinare. Allora, e te fai lo spiritoso, però quando faccio le costine in salsa barbecue... Si manca la carne. Perdonami seme. No, ma le mangio, ma sono sempre di soia. La carne va massaggiata perché comunque più la massaggi, più le assorbe tutte le spezie. Me l'ha insegnato un macellaio, quindi... Da noi sai che le costine vanno tantissimo nella Svizzera italiana, quindi tu consiglii di dargli proprio una bella... Ma tipo dimmi... Sì, sì, tu devi massaggiarle finché la carne non ha proprio cambiato colore. Ah, finché quello è il segno... Sì, perché le spezie, se metti paprika, peperoncino, curry, sono colorate e quindi la carne deve diventare, proprio deve assorbire. E poi massaggiandola senti che cambia proprio la consistenza sotto le mani. Allora, noi adesso abbiamo qua tipo 180 kg, parte il challenge di costine, entrano e tipo una giornata per massaggiare. Ti spiego come lo puoi fare e ti verranno benissimo. Ah, guarda, non vedo. Per la stagione estiva, guarda, sono pronto. Dopo, dopo, fuori dalle quinte. No, ma seriamente, adesso cosa ti piacerebbe fare? Condurre un programma di cucina, aprire un ristorante... Non lo so. Guarda, è una domanda che mi fanno anche queste in tantissimi. La risposta è sempre, vivo la giornata. Ok. Cioè, io ho passato tutta la mia vita a pianificare, pianificare, pianificare e alla fine non si è realizzato nulla perché vivevo sempre di sogni e non mi godevo il presente. Visto che adesso mi stanno arrivando tante possibilità, per carità, non sono un'incosciente che non guardo avanti, però voglio godermi proprio al 100% il presente e poi chissà. Cioè, mi sono sempre mantenuta da vivere facendo i lavori più umili al mondo, raccogliendo la frutta. Quindi, alla peggio, il pane da domani me lo saprei guadagnare anche se non avessi più un lavoro. Ma questo è importante. Sempre avere almeno un piano B e fare qualcos'altro che nella vita sia sicuro, no? No, no, per quello sicuro. Però ho deciso che voglio sempre essere felice. Quindi è inutile che io pianifichi un progetto adesso fra un anno che poi magari fra cinque mesi cucinare non mi dà più niente. E allora vediamo alla giornata. Grazie. Bye.